Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. Calmate la mente attraverso la meditazione. Se cantate, fatelo con consapevolezza, impregnando ciascuna parola di significato, sincerità e vibrazioni di guarigione. Chiedete a Dio con la preghiera di usarvi come strumento di guarigione divina. Chiedetegli di eliminare il vostro ego in modo da poter essere utilizzati come un canale puro. Quando entrate in sintonia con la presenza divina iniziate il vostro servizio di guarigione. Sintonizzatevi sull'energia di guarigione divina affermando, ad alta voce o mentalmente, essi sono sani perché tu sei in loro. Concentratevi sull'occhio spirituale e pronunciate con forza questa affermazione. Continuate a ripetere l'affermazione finché non vi sentite in sintonia con la sua verità. Concentratevi su una persona alla volta per diversi minuti usando la tecnica di guarigione seguente. Sedete eretti. Usando la doppia respirazione tendete e rilassate tutto il corpo due, sei volte. Toccate il midollo con una mano e l'occhio spirituale con l'altra. Visualizzate l'energia cosmica che vi circonda ed entra nel vostro corpo attraverso il midollo e l'occhio spirituale e passa nella spina dorsale. Sentite l'energia fluire dalle braccia alle mani. Tendete, vibrate e rilassate le braccia diverse volte. Cercate di sentire la forza vitale fluire dentro e attraverso di voi. Strofinate tutto il vostro braccio sinistro nudo con la mano destra parecchie volte. Poi strofinate il braccio destro. Rilassatevi. Continuate a visualizzare l'energia cosmica mentre scende nelle vostre mani. In maniera rapida ma delicata strofinate le palme delle mani circa 20 volte. Separate le mani e sollevate le braccia. Usate le mani magnetizzate di energie per guarire gli altri. Visualizzate il paziente come una persona sana e felice. Muovete le mani su e giù desiderando che la corrente passi sopra e attraverso la parte del corpo malata del paziente o nel suo atteggiamento mentale. pronunciate pronunciate l'om mentalmente e ripetutamente concentrandovi sull'occhio spirituale. Visualizzate raggi di luce che emanano dalle vostre mani cuore ed occhio spirituale e fluiscono nell'aura e nel corpo del paziente. prima di passare alla persona successiva tenetela prima nella mente e nel cuore e affermate tu stai bene perché Dio è in te. Quando avrete finito la lista di persone sedete con calma e assorbite l'energia se volete potete mettere le mani su qualsiasi parte del vostro corpo che ha bisogno di guarigione attirando l'energia divina attraverso di loro. Infine ringraziate Dio per avervi utilizzato come suo strumento.